Venerdì scorso gli studenti del liceo classico Asproni hanno manifestato contro il piano di dimensionamento scolastico. Sostenuti dal preside Antonio Fadda, dagli insegnanti e semplici cittadini, gli studenti si sono presentati davanti alla provincia con cartelli e striscioni. Vogliamo richiamare l'attenzione, in primo luogo, dell'amministrazione provinciale e della conferenza provinciale che ha prodotto il piano di dimensionamento della rete scolastica sulla nostra profonda insoddisfazione, che credo che non sia solo la nostra, e la nostra perplessità grande sugli esiti di questo piano che vedono l'unione tra il liceo Satta e il liceo Asproni, due storie che hanno un passato importante nella città di Nuoro e che possono ancora andare avanti da sole. Sicuramente noi continueremo a manifestare per far voce su ciò che ci appartiene, sui nostri diritti. 165 anni di storia sicuramente sono tanti e quindi non è il momento, non è l'attimo per porre fine a tutto ciò. Meritano anche le nuove generazioni di far parte di questa famiglia meravigliosa che è l'Asproni, quindi noi diciamo no all'accorpamento, noi abbiamo una dignità e come tale vogliamo essere il liceo classico Giorgio Asproni di Nuoro. Asproni non si tocca!